Ignorati oltre 800 posti auto tra Piazzale Sgallata, Parco Robinson e Parcheggio Fonplaten. Mentre in Via Tisia si fanno i conti con l'esigo numero di parcheggi disponibili, continuiamo a ignorare la soluzione al problema. Oltre 800 posti auto tra Piazzale Sgallata, Parco Robinson e Parcheggio Fonplaten, entrambi a poche centinaia di metri a nord e sud di Via Tisia. Due parcheggi, uno custodito Fonplaten e uno libero a Piazzale Sgallata, quest'ultimo talmente vicino che dal rettifilo, oltre alla chiesa di Bosco Mennite, è possibile scorgere a vista Via Tisia. Istituire in servizio navetta un semplice trenino su gomma permetterebbe alle persone di lasciare comodamente la propria auto e raggiungere in tre minuti l'area in cui fare i propri acquisti passeggiando tra i negozi. Quasi mille posti auto, comprensivi realizzando parcheggio di Ronco via Damone, che farebbero invidia al parcheggio di qualunque centro commerciale tradizionale, smaltendo al contempo traffico, stress, rumore e smog. Come lealtà e condivisione, afferma il Presidente Gran Di Nigo, facciamo appello alla collaborazione tra pubblico e privato per il sostegno a un progetto di mobilità sostenibile che permetterebbe di dare definitivamente corpo all'idea di centro commerciale naturale, aumentando il livello di concorrenza e appetibilità del commercio di vicinato nei confronti delle megastrutture della grande distribuzione e che potrebbe essere avviato per i saldi nei weekend e festività per poi renderlo stabile tutto l'anno, potendo così valutare l'idea di una ZTL per l'area di Via Tisia e Pitia, oggi totalmente rivalutate.